Salve a tutti ragazzi bentornati sul canale Gino Gamerino Signori eccoci qui di nuovo su Farmin Simulator 22 Ragazzi mappa Memphis New York Scusate ragazzi ma mentre vi parlo sto sistemando il microfono Perché non si ha messo poi così tanto bene Allora signori mi raccomando io intanto vi invito ad iscrivervi al canale Attivate la campanella signori Questo per evitare di perdervi nuovi contenuti Un bel commentino signori al video Anche per farmi sapere la vostra E un bel like signori così da supportare sia la serie che il canale Allora signori qui negli scorsi gameplay avevamo messo la stalla per le pecore da latte Ok abbiamo il terreno quello ad erba ragazzi Che è pronto per essere raccolto Ok che sarebbe codesto vero si ecco Ed è pronto per essere raccolta questa erbetta Ok dobbiamo raccoglierla Ora abbiamo solo un problema non abbiamo i mezzi per poterla raccogliere Bisogna andare a comprarli Ora ciò che ci serve è quindi una falciatrice Ok cerchiamo di piarne una che non è che costa più di tanto Perché qui i soldi non ne abbiamo proprio così tanti Cura dei prati non credo che sia la cosa giusta Allora ovviamente io quello Ah questo 25 Ah prendiamo la solita nostra ragazzi Questa 52.000 13.000 75.000 Maremma Maremma Comodo C'errebbe anche questa qua ragazzi Eh però sinceramente No dai abbiamo questo qui dai Prendiamo questa Che è la nostra solita amata falciatrice E penso che possa andare più che bene Adesso andiamoci a prendere un trattorino Grande amico mio Vai Andiamoci nel negozio Optimus Optimus regularibus Andiamoci di qua Ok Andiamo a falciare l'erba Almeno ragazzi possiamo Sì ma il negozio non è qua Possiamo Eh come si dice Andare anche a comprare poi le pecore Ok Visto che abbiamo messo la stalla Ok Vattene di qua Un altro buchetto Ottimo Andiamo a Oseghiamo Ok Attacchiamo il cavetto e la presa di potenza Perfetto Adesso Quello me l'ha messo proprio a cavolo però Ma scusa scusate Come fai a mettermi una cosa Così Io adesso come abito questa Se lo fa i numeri Andiamo così E facciamo così Dovrebbe andare bene Sì Alla grande ragazzi Sì aspettate Ah c'è anche qua la base di potenza Allora andiamo Allora facciamo così Intanto Sì alziamo questo E andiamo Via Ottimo Ottimo ragazzone Andiamo 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 a falciare l'erba Quindi ciò che dovremmo fare È falciare l'erba Poi eventualmente fare Le balle D'erba Ok Così almeno Possiamo comprare le pecore Le pecore da latte E possiamo Avviare già questa produzione Ok Intanto però Dispecchiamo tutto Ottimo Ovviamente andiamo a ci metterci Ci andremo a mettere Madonna mia Come ragazzi A parte mi sono appena svegliato Signori Sto facendo le notti Quindi Sono appena sveglio E quindi ho bisogno Insomma Di un attimino Per riprendermi Allora facciamo anche così Ma ho fatto una razzata Ok Così A parte io ti metto qua Amico mio E poi Ci si va Di course play Allora Vai Creiamo lavoro Course play Apri e chiudi il menu Numero tracce perimetrali Ne facciamo una Sì Anetti E basta Generare percorso Generato Abbiamo generato Vero sì E vai Inizia il lavoro Ok Tu ciccio mio Fammi sto bel lavoretto Adesso Ciò che ci servirà È un ranghinatore Allora Ci fa questo Ok Allora Il ranghinatore Eh Qui te voglio Allora Il ranghinatore Scusate Però io voglio vedere Anche un'altra cosa La larghezza Della nostra Falciatrice È di 8,3 metri Ok No era giusto Per vedere questa cosa 8,3 metri Quindi noi Il ranghinatore Dovremmo andare a rimediare uno Se lo trovo Se lo trovo Questo è un voltafieno Voltafieno Non ci interessa Non ci interessa Non ci interessa Quindi siamo persi il voltafieno Il ranghinatore ragazzi Possibile Sarchiatore Sarchiatore No Eccolo qui Ammazza Stava al fianco Il voltafieno Allora Questo ranghinatore Quant'è? Quello madonna 3,4 metri Anche no 8,4 Ragazzi Quello più adatto a noi Quello che costa di meno 126.000 Mangiavamo di meno prima? Ma scusate Non avevamo O so io l'ho visto male Allora prendiamo questo Che è quello che fa A casa No Perché indietro di comprare Ma io l'ho noleggiata La roba ho comprata No Aspetta 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 Stava un bordello No Non l'ho noleggiata Vero No Infatti Tutta roba mia Vabbè 1006.000 Vabbè Forse so io Mi sto sbagliando Stava lavorando L'amico nostro Lì Bravo E allora A questo punto Dobbiamo prendere Dobbiamo prendere Ma raga Qua dovremmo prendere Anche un altro trattore Tra l'altro Perché ne abbiamo Solo uno Ma trattori Cosa abbiamo qui? 135 cavalli Per questi lavoretti Ragazzi Ci potrebbe anche andare bene Che dite voi? Un Steir 8150 Turbo Vediamo che ci abbiamo Marca gomme Vabbè Mettiamo una Bella Ma così È più bello Larghi Stretti Mettiamo gli stretti Aggancio Car frontale Sì Mettiamoci Ragazzi Ah Dipende che marca Abbattiamo questa qui Targa Nessuna Ragazzi Io me lo andrei a comprare Andiamo a spendere altri soldi È vero Però mi serve un altro trattore Ne abbiamo uno in saldo 49.000 euro Insomma Penso che Questa è stata Ancora meglio Però purtroppo ragazzi Qua non ci si può De arrivare Qua non ci si può De arrivare Allora Andiamo a prendere Il suo nuovo trattorino Eccolo qui Non è che sia il top Non è bellissimo Questo Steir Però ragazzi Fa la sua porca figura Dai Quanto strade strette Mamma mia Quella qui scicchia Allora Facciamo una cosa Intanto vediamo Se c'è da Da sistemarlo Aspetta c'è un po' Di soldini Ripara Ripariamolo Ok Vernice Ce ne può fregare De meno Io Ah si Visto che stiamo qua No È il mio vernice Lanchinatore Ok Vai amico Piano Piano amico Forse un po' Troppo amico Vabbè Ok Ottimo Abbiamo collegato tutto Andiamo Andiamo Ragazzoli Andiamo Andiamo Qui ci avevamo da lavorare Mentre Il ranchinatore Ok Sì Stavo pensando Ragazzi Se avevo fatto l'acquisto Giusto Però sì Il ranchinatore Tanto noi abbiamo l'erba Vabbè Dai Sto trattore Fa il suo lavoro Dai Certo Va pianissimo Quello è vero Va molto piano Però ragazzi Ci va bene uguale Dai Non è male Però dai Che dite Non è sto spettacolo Però Fa Fa quello che C'è Che deve fare Allora Adesso Vediamo un attimino Di Vedere Che potrei mettere Anche Il cosplay Il fatto Che non vorrei Che si impiccano Non vorrei Che si impiccano Però io Almeno Tanto l'altro Dobbiamo prendere Anche Cosa Ma Mi hai soldi Non spendo Sto cosplay Ragazzi Allora Tanto Gli spieghiamo Sto coso Io Ho paura Che si impallano Tra le loro Ecco Perché Vi lo Faccio io Magari L'inizio Oddio Eh Ok No Non volevo Scendere Ottimo Scusate Mi ha buttato L'erba anche Palla strada Però Vabbè Vabbè Dai Questo va bene Questi lavoretti Dai Sto Sto Trattorino Va bene Questi lavoretti Sì Voglio cominciare Io Ragazzi Perché Cioè Vorrei Già Cominciare Almeno Facciamo Le balle E almeno Possiamo Comprare Le pecore Ragazzi Se no È tutto Un cavolo Certo Preso No Mi sa che Dovremmo Noleggiarlo Quello Per fare Le balle Ragazzi Per forza Se no Non ho Il soldi Per comprare Le pecore Vedo Allora Poi Riuscire a A vendere Questi emi di soia Che ci danno Una mano Ci danno Una grossa Mano Ragazzi Ok Vai Vabbè Dai Vabbè Sto cappetto D'erba Va bene Dai Insomma Non è piccolo Tra quelli Che ho Il più piccolo Sì Ma Fa La sua Porca figura Alla fine Dai Vediamo Quante ballescono Secondo me Ne escono Parecchi Ok Lui sta Continuando Bravo Ok Mi faccio Tutto il contorno Ragazzi Dopodiché Prendiamo Quello per fare Insomma L'imballatrice Quello per fare Le balle Ne facciamo Già un paio Almeno Così andiamo A mettere Poi le pecore Che andremo A comprare Ok Ok Qui Qui Allora Allora Prima fila L'avevo fatta Ora Adesso lo chiudiamo Lo lasciamo un attimino Qui Tanto ci servirà Dopo Quindi ho voglia Allora Positiva Perché Che ci dà la possibilità Di fare Molta meno strada Nel frattempo Ci guardiamo Il quartiere Qua Ottimo Oh Dov'è Oh Sì Ok Allora Se è detto Ragazzi Qui in ballatrice Inoff Questa che roba No no Che cos'è Ah Ok Una lama Per metri trebbia Perché Per quale attrezzo Ragazzi Ma questa è piccolissima No Io volevo vedere Cioè Questa è piccolissima Ragazzi Vabbè Non è che Per quel cosa Che ho preso io No Vabbè Poi ci andremo a vedere Avanzi Non quinta Mi scemi Vabbè Qui sta salvando Ok Allora Abbiamo detto Che a noi ci serve Queste Le imballatrice Ottimo Ora A me mi serve Mi basta uno Non mi interessa L'insilato Questo mi fa tonde Da 125 48.000 Ragazzi Questa come me le fa Però Me le fa tonde No Queste le fa quadrate Vabbè Anche se mi andrebbero bene Anche quadrate Per ora Ragazzi Deve costare una cifra Eh Bisogna noneggiarla Certo non lo posso comprare Non ci vorrei Ma Cioè Mi ribarebbero 8.000 euro Non si può fare Non si può fare Questo mi fa solo Le balle Quindi non mi fa Eh Insilato È quello che voglio Le ruote Lasciamo tutto così Ragazzi E lo Noleggiamo Ah spendiamo 2004 Si può fare Dai Per forza così Ragazzi Per forza così Se no qui Diventiamo matti Eh Se no qui Diventiamo matti Poi appena abbiamo Qualcosa a poter vendere A poter fare Si farà Ma adesso Non abbiamo questa possibilità Ragazzi Siamo Diciamo Poverelli E quindi Da poverelli Dobbiamo risparmiare Ora L'affitto di questo Va più che bene Tanto ho fatto quello Abbiamo speso 2.000 euro E ridiamo tutto indietro Ma Niente Io vado a passare da là Passo sempre da qua Va bene Lo ridiamo indietro E buona Per ora è così Poi Un giorno Ce lo compreremo Un giorno Che poi coglione Potevo No Ho fatto una spesa assurda Che non c'era senso Perché potremmo prendere quello Oh Vabbè Eh vabbè Potremmo raccogliere erba Con quello E dargli la sfusa Tanto si potrà Fatto pure la prova Scorsi gameplay Mare Massomara Sono andato a spendere Vabbè 2.000 euro Che mi ha speso Dai Ma che mi ha speso Sto cifra Dei soldi Però Va bene Così Su Oh Dov'è Ok Ok Andiamo a fare Sto balle Da 3.500 Sì Facciamoci tutto il giretto Signori Ah ma l'amico nostro Qua è finito Dai Grande amico nostro Ci facciamo Questo Ah ma esco di ballette È vero che 3.500 Però insomma Dai Ce n'hai di erba qua Eh Ho quasi Tentato di Non fare tutte balle Che dite Cioè di balle così di erba Ma sto tutto Cominciare a fare anche Un po' di insilato Sapete A meno che Vorrei Volessi mettere No ma facciamo le balle Di insilato Questo Tutto più semplice Secondo me Ok Vabbè Sto trattore Va bene anche per questo Quindi parecchi lavori Li può fare Quelli un po' più pesanti Eventualmente Li facciamo fare All'altra cosa All'attento Ora il problema È uno solo ragazzi Dobbiamo venire A raccogliere Sto 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 Che È un grosso problema Dobbiamo andare a comprare Altri mezzi Mamma mia I soldi dovranno spendere Ragazzi Dice che Il lavoro Della farm Non spendi soldi La voglia Quanti ne spendi Qua ragazzi La voglia Spendere solderelli Vabbè Comunque Questo È quanto Ok Dai Il contorno L'abbiamo quasi fatto Dai Così un po' di balle S'uscite fuori Tanto amico nostro Gli ha filo Si è messo pure in mezzo Però Voli sua No però Lo voglio levare Ragazzi Perché Non finisco bene Tutta la fila Ok Ok Fermati qua Allora Vedi Quasi fatto Un'altra Non credo che sca fuori Ma Non ci interessa Ok Andiamo A Fare questo Ok Allora Per ora Anche tu rimani Parcheggiato Da una parte Bravo Adesso Però Dobbiamo Ieri a raccogliere Ste Ste balle Ora Per raccogliere Ste balle No Non volevo fare Questo Noi ovviamente Non ci abbiamo Nulla Perché mica Abbiamo mai Comprato qualcosa Per le balle Noi Controlliamo Per sicurezza Ma giustamente Non abbiamo nulla Avremo Questo qui Allora Facciamo una cosa Ragazzi Ok Senza che andiamo Adesso a comprare Vedete Allora Prendiamo quest'altro Facciamo una cosa Signore Ah Vaffanculo Eh Non dovrebbe sapere Quest'altro No Vaffanbrodo Eh Ok Ok Quindi devo solo Oh Senza Non sono lui Ah Ferma Ti sta sbagliando tutto Ok Certo Eh Ho fatto una Senza del male Però vabbè Faremo un po' di Come vai Perfetto Allora Facciamo una cosa A questo punto Ragazzi Raccogliamoci Un po' d'erba Col Cassone Andiamo le pecore Compriamo le pecore Semplicissimo No Semplice No A questo punto Facciamo così Ragazzi Tanto Beh Tanto evitiamo Di comprare Che poi Comunque Dovremmo Andarlo a comprare Non è che Non so com'è Eh Visto che questo Ce l'abbiamo Insomma Sfruttiamolo In qualche modo No Avrei potuto Non comprare Il raccogliballo È vero Però Non sta raccogliendo Spero Vero Sì Eh sì ragazzi Per questo punto Mi raccolgo L'erba Qui Certo Facendo C'è da ranghinarla Prima Però Vabbè Mue Fanno Prendiamo 3-4 mila Di erba Così Glieli portiamo E via No E Eh Facciamo questa striscia Così centrale Vediamo un attimo Vabbè 2006 Se arriviamo Fino giù in fondo Gli andiamo A portare l'erba Dai Almeno Già Questa Ce l'hanno E Così Possiamo Prendere Le nostre Pecorre Eh sì Però Conviene Davvero Ragazzi Ranghinare E raccogliere Ovviamente Eh E beh Comunque È meglio Fare le balle Poi Alla fine Poi Andremo a raccogliere In qualche modo Non lo so Ok Scarichiamo L'erbetta Ottimo Così Qui un po' di erba C'è là E adesso Ragazzi No Tu mi spegni Però Se non c'è troppo L'umore Ok E a questo punto Ci compiamo Le peccore Dove si comprano Le peccore Qua Ok Cosa andiamo A comprare Ragazzuoli Allora 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 O le compriamo Piccole Perché se le vogliamo Comprare così Aspetta però Questa Ok Ma questa Ma questa non era Pecore Da latte Eh Vabbè Pecore Da latte Mi faranno Il latte No Qui non mi dà Nessun Ok Vabbè Senti Allora Io vorrei Prendere Queste Che differenza C'è da questa E questa Andrà C'è Eh vabbè Prendiamo Queste qua Dai Allora Quanti sono 120 Quanto costano 10 Mamma mia Prendiamone 5 C'è 10 Di queste Ok Io vorrei Anche questo Di montagna Del galles 10 Adesso 10.000 Spesi Sì E intanto Ragazzi Prendiamo Questo Poi vediamo Un attimino Teoricamente Eh qui Dovremmo fare Latte No in teoria In pratica Non è che Lo so Devo fermare Un po' No qui Non so perché Sto entrando Non mi piace Un po' Ah ok Fia fama entra Qui non c'è niente Qui c'è sta Horman Ah quindi Ha tutti i dati Della cosa Figo però E qui ovviamente S'entra dentro Le nostre pecore Che stanno Mangiando Eh Eccole qui Le nostre pecore Ragazzi Le nostre pecore Belle 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 Va bene dai Questo ragazzi Lo abbiamo fatto Ma qua si esce Letta mettere qui Tanto queste non escono Non credo La ultima E chiudere Bravo Questo possiamo Anche lasciarlo Lì aperto Però qui magari Mi sono chiuso dietro Ottimo Però ciccio Devi chiudere Questa porta Ottimo Ora Eh si Non è che Qua dentro Non è che Se cammina Tanto bene Ok Vabbè ragazzi Io direi però Di fermarci Qui con questo video Abbiamo messo La nostra Bella stalla Ragazzi Ok Ci fermiamo qui Mi raccomando ragazzi Come sempre vi chiedo Di iscrivervi al canale Attivare la campanella Signori Un bel like Ok E supportatemi Signori Ho bisogno Di voi Ok Ciao ragazzuoli Grazie a tutti